Io sono il meno adatto perché ho partecipato alla Repubblica Sociale, ho combattuto fino agli ultimi giorni accanto a Mussolini, idealmente, in quello Stato. Naturalmente adesso vedo tutto un po' nella prospettiva storica, i 50 anni, mi sforzo di capire e capisco anche le ragioni degli altri e tuttavia mi rimane di quella esperienza l'apprezzamento per il tentativo colossale di Mussolini di fare dell'Italia prima una nazione, secondo una grande nazione. Grazie. È difficile per un semplice mortale con me descrivere quello che è un mito, quello che è il tutto, potrei dire come una religione. Io amo Gesù Cristo nel senso che era il massimo e dopo di lui può essersi Mussolini e basta. Giù Cristo nel senso che abbiamo capito in dei migliori storici e analisi di Mussolini, è stato un opportunista che aveva un grande carisma per le persone, con i suoi discorsi che attraverte l'interesse e la passione delle persone, ma non aveva un programma definitivo per sviluppare le risorse del paese. Proprio, della vita pre, incredibili con le lettere. Sono criminali già da bambini.